Milioni di euro investiti, progetti non ancora definitivi, opere in realizzazione, il completamento della tratta ferroviaria che da Fossa Cesia arriva a Castel di Sangro, fermo da anni, va fatto, procedendo con vari step. Un progetto ponderato, quello presentato a Perano dal partito Azione. Presenti Raffaele Bonanni, componente della segreteria nazionale di azione, rappresentanti abruzzesi, amministratori locali, sindaci, un rappresentante della tua. Durante i lavori è stato istituito il comitato Sangro Express, un comitato di monitoraggio per il completamento delle opere. Azione chiede non più il treno della valle, ma il treno per la valle. Giovanni Luciano, segretario provinciale di Azione. Sì, perché si immagina sempre il treno della valle, che oramai sono anni che non circola più, e noi pensiamo invece che per la valle di Sangro sia ora di aprire un collegamento di trasporto pubblico locale. E di trasporto pubblico locale a iniziare dalla tratta Fossa Cesia a Archie, perché nel frattempo c'è già un pezzo di binario che funge da raccordo merci per la Sevel, e poi c'è già realizzato una tratta ferroviaria da parte della tua, dalla ex Andrighitana ora tua, fino ad Archie. E per poi, una volta aperto, quindi ottenuto l'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'Agenzia Nazionale competente, quindi dotare questo territorio di un collegamento ferroviario. I numeri parlano e dal 1978, 45 anni, sono stati già investiti 115 milioni, ne mancano meno di 4 per arrivare ad Archie. E poi da Archie al lago di Bomba, Villa Santa Maria, così si potrebbe collegare con il treno più bici, la via verde dei Trabocchi, alle zone del lago di Bomba, che sarebbe un veicolo per il turismo eccezionale, di eccezionale portata, e poi pensare a traguardare verso Corset di Sangro, perché la nostra proposta è tappe forzate per tratte distinte iniziando dal mare, anziché aspettare di realizzare tutta la linea, ci serve cambiare paradigma e appunto passare dal treno della valle di romantica memoria al treno per la valle, per le esigenze della Val di Sangro di questo territorio. Ci tengo a dire che il convegno non si esaurisce qui, il tema non si esaurisce qui, perché proporremo oggi l'istituzione di un comitato di monitoraggio permanente su queste opere. Sono troppi anni che si investono soldi e i cittadini non hanno ritorno.